lui si chiama alberto kardeschi però ha preso il nome credo da una nota non lo so perché ti chiami sol buonasera buonasera a tutti il mio nome sol dal punto di vista riprendendo la nota come hai specificato ed in più dal momento in cui sono subentrato in un momento che guardava un film particolare c'era un direttamente il protagonista che si chiamava soul e quindi da lì sol però poi sol è diventato qualcosa che proprio sento mio perché dal momento che tu crei un nome particolare un nome d'artista soprattutto e per quello che riguarda la tua creatività è qualcosa che mi appartiene di più di alberto dal momento in cui alberto è stato creato da una madre un padre e quindi sol è qualcosa che appartiene più a me stesso certo allora io per far capire come come tu sei io volevo leggere quello che tu hai scritto aspetta dove apri la presentazione sì ma non solo quella volevo leggerti come tu ti sei ti sei presentato allora mi chiamo alberto kardeschi sono nato monteccio pubbliciano di siena il 28 8 99 nel filmato di mia presentazione manifesto principi e coerenza di pensiero e comportamentali ispirati a spiritualismo puro ed ancestrale ho 24 anni ho piena conoscenza di diritto naturale mi cos'è il diritto naturale scusa il diritto naturale dal punto di vista che c'è una legge universale che è sopra di noi e quella legge universale poi è madre natura che sorveglia tutti noi e veglia all'interno di noi e ci fa esprimere per con piena contezza e coscienza di ciò che siamo ok mi percepisco senza presunzione alcuna compositore di parole in versi assai ermetici cosmonauta nella ricerca di note e di armonie col fine che giovanni e forti in spiritualità cosa vuol dire giovanni e forti giovani no giovani a giovani e forti spiritualità giovani perché avevi messo giovani con la g maiuscola giovani o maturi in età che siano possono trarre beneficio dal mio pensare fare è mio preciso volere rivolgere un messaggio forte ai miei coentrani e ai più giovani nei quali scorgo appiattimento e confusione che mi recano anche dolore è mia premura poterli scrollare verso la vita ed il futuro da costruire con impegno aggiungo che la mia passione per i versi per il canto e per la mia musica fino ad ora si è evoluta per istintività congenita che mi viene da un importante avo alchimista tu avevi un avo alchimista sì un mio avo alchimista che si chiamava alberto rinaldi alberto rinaldi viveva piazze piazze che è una un piccolo paese nella provincia di siena e comune di cetona e da lì lui era studioso e in più un genio dal punto di vista della farmaceutica infatti curava la tubercolosi nell'età più o meno nel 1800 no no forse 1900 ora di preciso non me lo ricordo che anche anno che età però se qualcuno vuole interessarsi ci sono già tutte le direzioni e informazioni riguardante alberto rinaldi alberto rinaldi ha curato anche arturo toscanini prima della turandò e quindi sento che proprio è qualcosa di quell'aspetto che mi incarno dal momento in cui quello quello che sto diventando e quello che sto crescendo giorno dopo giorno anche attraverso figure che mi stanno accanto dal punto di vista di farmi entrare in discorsi alchimista in esoterismo occultismo sono tutte cose che sento veramente mie ad oggi sono pienamente cosciente di aver trovato una strada e uno scopo all'interno di questo mistero che è la vita in questo momento dedico molto tempo allo studio dell'armonia e della melodia col fine di crescita e di elevazione delle sottili capacità che sento dentro dal momento in cui dal momento in cui vai vai dal momento in cui quello che faccio può essere qualcuno mi può etichettare come pazzo non importa ma dal momento in cui quello che faccio scrivo rifletto sono pieno sono quasi cosciente nell'incoscienza di non essere soltanto io a livello materiale che sto scrivendo e sto facendo un discorso dal momento in cui che alcuni discorsi che ascoltate all'interno di brani all'interno di trafiletti riguardanti presentazione brani ci sono degli argomenti che io non ho mai toccato nella mia vita dal momento che non ho mai toccato mi viene anche la domanda chi è allora che sta facendo questi ragionamenti è qualcosa di superiore un'entità un corpo celeste all'interno di me stesso l'universo che mi che si trasmette all'interno di me dato che credo che tutti siamo delle antenne e delle antenne che c'è qualcuno che recepisce di più e qualcuno che recepisce di meno e quello che riesco a recepire sono le creazioni che per adesso siate a conoscenza ma c'è molto alto ma non potrebbe essere un buco di memoria con una vita precedente ma anche quello anche ma sicuramente ma sicuramente dal momento in cui siamo antichi nella nostra gioventù almeno io mi ritengo molto antico nella mia gioventù dal momento in cui discorsi e sentire particolare un sentire particolare e questo aspetto proprio della sottigliezza dal momento in cui questa sottigliezza è impercettibile ma percettibile allo stesso tempo un po discorsi che si gioca molto sull'astratto sull'ermetismo certo certo ma perché però credo proprio ma ma tu sei no fermati ma tu sei nato così o sei diventato in una evoluzione io credo che di essere nato così ma di non aver preso coscienza nel momento in cui lo sono diventato perché attraverso un percorso praticato il buddismo per quattro anni al che successivamente il buddismo di nishiro in daishoni da lì attraverso un percorso proprio di buddismo tu prendi questa pergamena ritiri e tu reciti di fronte a questa pergamena vedendo la i upgrade che stava facendo mia madre dal momento in cui stavamo vivendo una situazione decisamente particolare e che tutto si stava sgretolando vedendo un cambiamento radicale mi sono anche io direttamente esposto in quello che è la filosofia che cosa ti è successo e come è cambiata tua madre mia madre non è che è cambiata mia madre è cambiata sulla determinazione perché quella parola il mantra che stava recitando aveva una convinzione tale che l'impossibile lo faceva diventare possibile ma dal momento in cui io sono subentrata all'interno di questa religione ho detto ma per quale motivo io devo stare a recitare un mantra di fronte ad una pergamena che la scritta a livello di diogrammi di illuminazione e di centratura equilibrio nishiro in daishoni in un momento in cui si trovava sicuramente in contesto particolare per proprio andare a buttare fuori tutta la sua interiorità e tutto il suo il suo spiritualismo all'interno di questa pergamena di riso e chi me lo dice che tutte le pergamene di riso con questi diogrammi siano effettivamente realtà e quindi io stesso stavo dando forza all'entità esteriore ma nel momento che la dava all'entità esteriore all'entità interiore non si stava perdendo questo legame e quindi adesso ad oggi sto veramente alla grande allora guardiamoci guardiamoci il video spirito materia dove praticamente tu racconti te stesso sono un uomo vivo e libero nella mia essenza materiale e spirituale in nome per effetto del gius naturalismo nella mia essenza ho concepito delle parole attribuendo valenza di poesia o lirica oltre il velo degli enigmi ermetici abbandoniamoci all'elevazione astrale i temi che investo attraversano non solo il piano terreno che ha già meraviglia della natura ma sono questi principi al quale si accosta ogni singolo pensiero traspongo a livello dello spirito parole in canto accompagnando le con musiche ed effetti scenici cinematografici come giusta interpretazione del mio sentire e questo sentire gius naturalista è prodigo per gli uomini e donne vivi e liberi che traggono dalle mie riflessioni e creatività la soddisfazione che colma il bisogno di comunicare e nutrirsi dei principi fondamentali della vita è il vivere alchemico già di mio avo d'ottocento che discende e sale tra sesta dimensione solare e terza dimensione umana osserviamo con occhio attento ed acutizziamo l'ascolto sono soldi noi siamo bello perché mentre tu ascoltavi te stesso entravi quasi in meditazione ti ho visto cioè ascoltavi sono sono delle frasi che proprio sento mie mi attraversano ogni volta però ci tengo anche certo a puntualizzare il fattore che questa presentazione è stata scritta a quattro mani quindi non è soltanto farina del mio sacco ma chi è che io tengo perché naturalmente chi l'ha scritta ma chi l'ha scritta con te l'ha scritta un uomo che mi sta che mi sta guidando all'interno di questa vita esoterica alchemica ancestrale ok senti ho una domanda chiedigli se ha mai fatto registi a cassici sì sì no lui non lo so no tu hai fatto registi a cassici no 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 ok però mi interesserò almeno terminata questa non è non è che sia necessario eh non è che sia necessario c'è una roba una roba bella perché c'è rosanna che scrive ma siamo sicuri che abbia ancora 24 anni cioè 24 24 anni in questa incarnazione ma chissà quanti millenni che c'ha prima e vedi questo questo ti fa molto riflettere perché poi arrivi cerchi di arrivare a una verità che poi la verità assoluta non esiste ma tutta è piena di frangenti è piena di pezzetti tutti i pezzetti che sono tutti da comporre ma ognuno ha un proprio pezzetto e quel pezzetto va a comporre direttamente l'immagine primaria ok senti volevo volevo leggere un'altra cosa che hai scritto per far capire che non è normale non sei proprio nella normalità allora quando roberta lo ha convocato e gli ha detto guarda lui ha scritto buonasera ho costantemente fidato che il contatto stabilito al 27 dicembre 2023 entro il quale sir red ronny fu colto nel pieno di una terribile influenza dichiarando assoluta disponibilità ricevere tutto quanto di mia composizione avrebbe avuto esito positivo ringrazio per la considerazione sono a disposizione ed attendo istruzioni tu sei completamente fuori tu sol sei fuori 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 a bologna come i balconi no che il balcone fuori dalla casa cioè sei fuori dalla dalla realtà vivi vivi in un mondo totalmente diverso lo ritengo un complimento quindi grazie certo certo allora 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 se per una paola per quella che ti aveva fatto la domanda sui registri a casi ci dice può scoprire tantissimo su tutte le sue incarnazioni precedenti noi siamo essere divini red solo che lo abbiamo dimenticato e accedendo ai registri ognuno di noi scopre chi è io non sono molto d'accordo non sono molto d'accordo nel senso perché a cosa serve cioè a con noi siamo su questa terra in questa incarnazione in questo corpo perché abbiamo scelto di vivere questa esperienza poi dopo tu dirai il tuo parere abbiamo deciso di vivere questa esperienza andare a vedere chi eravamo e come quando ad esempio mi dicono mamma mia ma quanto archivio ha io c'ho tanto archivio ma ma non lo guardo perché sto vivendo quello di adesso cioè il giorno in cui tu dici ok depongo le armi vado a vedere i filmini precedenti quando dici ok ho finito il mio compito allora vado a vedere i ricordi ma andare indietro a vedere le vite precedenti a cosa serve cioè faccio un esempio banale se tu scopri che che ne so nella vita precedente tu avevi ucciso tuo padre come vivi la tua vita di oggi a cosa ti serve comportati bene basta voglio sapere il tuo parere sol no no più o meno io la penso nella stessa lunghezza d'onda stuare dal momento in cui è come se te vai a scartare il regalo se vai a cercare anche nelle vite precedenti ma poi diventano anche un trauma dal momento in cui prendi coscienza di quello che ama veramente è così a veramente è successo questo e poi però tutto ciò non so quanto possa andarvi possa dargli possa essere sicuro di quello che poi sto ascoltando e sto vedendo e sto percependo attraverso quelle sensazioni perché il nostro corpo è una macchina qualche volta se tu non gli tieni il passo gioca un passo avanti a te e quindi dal momento che gioca un passo avanti a te la mente è lì che arranca per cercare di recuperarlo ma dal momento in cui tu sei fermamente centrato non hai neanche bisogno di andare a cercare vite precedenti vite passate perché nel momento che questo presente ad oggi ora il cui è ora è il presente il passato il presente il futuro in un unico istante e quindi per quale motivo la vita precedente è anche quella che sto vivendo adesso la vita anche passata è quella che sto vivendo adesso perché quello che ho detto ora ho detto dieci minuti fa è già vita passata cazzo sei bravissimo onda marina scrive occorre saperlo per capire meglio dove lavorare in questa vita vedi onda marina battiato cantava siamo angeli immortali caduti nel terreno senza più memoria se ci hanno tolto la memoria è perché dobbiamo scoprire da soli non andando a cercare una memoria in registi a carsici che poi non sai se ti hai la tua vita in india tutti i colleghi e loro vanno a cercare quella foglia che risponde affinché non arrivano a quella foglia che dicono che ne so nel suo caso tu sei alberto kardeschi si la tua mamma si chiamassi allora questa è la tua foglia e leggono quella che è la tua vita beh questo mio amico è andato lì hanno trovato la sua foglia e hanno detto che strano perché per la foglia tu adesso dovresti già essere morto io sono vivo quindi alla fine ragazzi red sta sta parlando cinque minuti già mi piace molto spirituale bellissimo video personalità evoluta particolare del resto è nato in agosto allora non so cosa voglio dire nato in agosto però però allora lui ha risposto il mio segno zodiacale il 28 agosto e qual è il segno zodiacali giocano una grande sfida all'interno di questo pianeta terra e quindi se io riconosco il tuo segno zodiacale riesco anche ad anticipare le tue mosse dal punto di vista positivo e negativo e qual è il tuo segno in più l'ascendente e se poi dopo conosco l'ascendente per me diventi quasi in libro aperto no perché adesso non sono così così formato lo diventerò sicuramente qual è il tuo segno? il mio segno è vergine ascendente toro se i vergini sono io ho una figlia vergine sono meticolosi pignoli in una maniera incredibile beh infatti la musica è diventata è quello è proprio tutto messo mi dicono anche che il toro poi dopo testardo eh ragazzi diciamo che rasentate il fatto di diventare rompicoglioni no ma poi conoscete human design no? cosa sono human design? c'è un processore all'interno di internet che si chiama human design all'interno scrivi la tua data di nascita l'ora della tua data di nascita esce fuori l'ascendente, il segno zodiacale e in più altre tre figure generatore, manifestatore e e la terza che però non ricordo e da ciò vai a trarre proprio al livello di quello che poi si tratta del tuo futuro di creazioni dal punto di vista materiale quindi di lavoro, di progetti tipo il mio il mio human design è generatore e manifestatore tre anni e mezzo fa stavo creando un progetto denominato Zenadir Zenadir che sta arrivando tutt'oggi sta cadendo nella terra e Zenadir riprende i concetti di Zenit il punto più alto della volta celeste e il nadir, il punto più basso creando una coesione tra queste due parole apparentemente opposti viste da due punti di prospettiva totalmente differenti andando a creare un'unificazione un'unica particella all'origine Zenadir e tre anni e mezzo fa stavo creando questo progetto dal momento in cui all'interno del progetto stavo mettendo all'interno coloro che potessero partecipare alla realizzazione ma successivamente è andato tutto a rompersi nel giro di tre mesi dal momento in cui il generatore e manifestatore ha il compito attraverso la parola attraverso il sentire il far percepire all'altra la comunicazione questo sentire che ti dà modo di entrare all'interno della prospettiva del creatore e che poi diventi una creazione parte di se stesso Sol, non ci ho capito niente ma suona bene bene, l'importante è quello ok senti, mi racconti il brano l'ora di... cioè, fra l'altro la curiosità banale molto terrena ma tu vivi solo? vivi con qualcuno? vivi con i tuoi? come vivi? io vivo solo ad oggi vivo solo ci sarebbe mia madre ma mia madre è sempre fuori quindi dal momento in cui è sempre fuori la mia creazione proprio spassionata e sottile esce fuori nel solitario ok di che cosa vivi? non di musica? non di musica ad oggi ad oggi sto collaborando con un imprenditore e un architetto che produce cupole geodetiche cupole geodetiche cupole geodetiche riprendono i solidi platonici le cosaedro e a cosa servono? dove le fai? diventano abitazioni ah bello comunque anche quelle sono su internet in Italia non ci sono in Italia non ci sono in Italia sono più classificate dal punto di vista del glamping che è un tipo di turismo che c'è vicino alla maremma quindi grosseto giù di lì soltanto che il glamping è attraverso queste cupole fatte in plastica o gomma e quindi hanno uno stile differente cioè io se sto un giorno con te continuo a non capirci quasi niente perché sei tutto strano cioè tu parlare con te bisognerebbe avere il vocabolario qui e tu scrivi clamping e tu vai a vedere cos'è clamping cupole e vai a vedere cos'è cioè proprio sei completamente fuori beh ma allora io ti dico così qualcosa che forse ti spiazza o non ti spiazza ho la terza media di quello che vuoi ho la terza media hai la terza media dal punto di vista scolastico sì ho la terza media beh ma molto semplice c'è anche il mio amico Alberto Ferrarini che lui non studiava dice che a scuola a scuola ti sopprimono cioè a scuola non ti insegnano ti indottrinano che è una roba diversa anche Osce lo diceva mamma mia va bene sentimi siamo arrivati alla fine vediamo il tuo video perché chiaramente dicono ma fa musica perché fino ad ora abbiamo ascoltato solo un racconto questo è l'ora di vivere mi racconti l'ora di vivere? beh l'ora di vivere è stata tratta più che altro dal vivere all'interno proprio è il bosco che mi ha tratto mi ha tratto all'interno delle sue braccia dal momento in cui il luogo che vedrete è stato un momento di cinque mesi in cui ho vissuto all'interno di quel luogo era un periodo in cui il fascino della natura non aveva più era diventato frivolo era diventato superficiale voleva a tutti i costi creare il mio spazio all'interno della città quindi come tutti niente di originale una Milano una Milano bene quella roba lì che però in fondo non mi apparteneva dal momento in cui qualcosa qualche ingranaggio che non capisco cosa non so cosa e non lo saprò forse neanche mai mi ha mosso quel qualcosa che la natura stessa si è rivelata si è rivelata fino a attrarmi in questo testo che ascolterete e spero comprendiate ok ti saluto io saluto Sol e e ci immergiamo nella sua ora di vivere ciao ciao caro rami come braccia braccia come rami foglie secche foglie secche tra le mani dalla piena alla mezza tutto tace tutto tace tutto tace e che ci sarà nel vuoto consegrati uomo consegrato a Dio consegrato al suolo vedi nasci nudo cresci indossi scudi la parola ai muti parla agli occhi ai lupi no che non puoi fuggire dentro fuori fui niente di personale ora che sai chi sei potrebbe fare quasi male in quanto al tempo si ha effetto ciclico per ogni errore dell'uomo restiamo in bilico in parallelo tra un sogno e un incubo sei la parte quella che distingo io sei la parte quella che distingo io e non è detto che sia poi tutto perso fazia e se ti spingo fai via ti mostro al lato la vita è l'ora di vivere è l'ora di vivere senza azioni tua casa tu creta tua strada di spesa e no l'on al pianeta che agli occhi riveda in voi spiega le ali per raggiungere cosa la spinta ti dà e siamo verdi a metà partito laddove ti perdi troverai troverai laddove ti perdi troverai troverai laddove ti perdi troverai Grazie a tutti. Grazie a tutti.